La settima edizione del Grande Fratello Vip è in onda da appena un mese, andrà avanti fino alla prossima primavera ma si pensa già al futuro. Ad un'ottava edizione che quasi sicuramente ci sarà. Il reality show sta registrando buoni ascolti, ogni lunedì riesce a battere il re delle fiction Raelino Guanciale e il caso Marco Bellavia. La settima, nonostante sia stata una brutta pagina della tv, ha sicuramente contribuito ad alimentare l'interesse. Al momento accanto ad Alfonso Signorini ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti ma nell'ottava edizione del GFV potrebbe entrare in gioco un'altra opinionista. Dietro le quinte si sta facendo con una certa insistenza un solo nome, quello di Alessandro Rosica, l'esperto di gossip e tv. Ha rivelato in un'intervista rilasciata al settimanale Mio che la produzione è pronta a scommettere sulla giovane Italo per indiscrezione. Tra l'altro, confermata da Maurizio Costanzo, che ha ammesso di apprezzare molto la fidanzata di per Paolo Pretelli al Grande Fratello Vip non è escluso. Tra l'altro, che Giulia Salemi possa entrare in gioco già in questa edizione. Magari a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie come anticipato già nella prima puntata per trascorrere le festività natalizie con tutta la sua. Lo stesso è accaduto lo scorso anno. La moglie di Paolo Bonolis era stata però rimpiazzata per due puntate da Laura Freddi, che aveva partecipato alla prima edizione del programma e in passato ha avuto una relazione con il conduttore Mediaset. Interpellata sull'argomento in un'intervista a Veneti Fair Giulia Salemi Apro le porte a tutto. Il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spererei solo di essere all'alte. Giulia Salemi conosce bene il grande fratello VIP. È stata concorrente due volte, nel 2018 e nel 2020, e al momento ricopre la carica di commentatrice dei social. Un ruolo nuovo e importante, che arricchisce ogni diretta della trasmissione.